Ci serviva questa vittoria perché eravamo partiti bene, però ci siamo fatti rimontare. È stata bella la nostra reazione che siamo andati a riprenderla e vincere la partita. Ma è molto importante perché alla fine andiamo in casa loro, quindi dobbiamo fare bene come abbiamo fatto oggi e di concedere poco. Quest'anno ero partito che non giocavo molto, poi quest'anno mi è andata bene, quindi sto sfruttando al meglio la mia occasione.